Sì, allora, nel laboratorio infatti siamo partiti dalla mancanza di lavoro, che dalla mancanza di lavoro è stato il focus, dopo da lì siamo partiti a individuare cosa nei nostri territori produce la mancanza di lavoro e quindi un elenco da presto, in ordine sparso vi leggo, privatizzazioni e servizi, perché si è detto che con la privatizzazione non è certo aumentato, non sono aumentato le unità lavorative, ma c'è stato, oltre a una riduzione della qualità, anche una riduzione effettiva numerica. Poi è uscita anche la ricerca eccessiva del profitto, che sembra strano, però in realtà la ricerca eccessiva del profitto costringe a delocalizzare le imprese, costringe a ricercare profitti attraverso speculazioni in borsa e non attraverso l'economia reale e così via. Poi le baronie e gli oligopoli professionali, i baronie più nell'ambito pubblico e gli oligopoli professionali più nell'ambito, diciamo, delle professioni, avvocato e così via, che costringe, costringe, diciamo, a lunghi percorsi, diciamo, senza lavoro, o meglio, con lavoro, non c'è più qui. Poi il lavoro manca perché ci sono chiuse le industrie e soprattutto c'è mancato un piano alternativo alla chiusura, una prospettiva alternativa. Scarsi investimenti in culture, lavoro nero correlato alla mancanza del lavoro, l'eccessiva burocratizzazione, l'impoverimento del capitale umano, la cultura del posto fisso, inteso che si attende sempre che il lavoro arrivi da qualche parte e ci venga a chiamare a casa, in questo senso, allora c'è mancanza di spirito di, diciamo, imprenditoriale, in senso alto. Presenza della grande distribuzione che, ma questo si può estendere, diciamo, a tutte le grosse organizzazioni che fanno poi morire i piccoli dettagli, i piccoli imprenditori, le piccole realtà. Scarso accesso al credito, poi clientelismo e corruzione, mancanza e conoscenza dei nuovi diritti, che poi, in pratica, legata al clientelismo alla corruzione, è legata ad una simmetria informativa. Asimmetria informativa sia del lavoratore rispetto a chi offre lavoro, ma una simmetria informativa anche del cittadino semplice, che non conoscendo i propri diritti, non conoscendo le possibilità offerte, entra nel giro del clientelismo e quindi la strada alternativa anche della corruzione. Mancanza di fiducia dei giovani e delle idee. Una mancanza di fiducia, a qualcuno ha raggiunto poi che fanno stato scritto anche delle idee anche dei migranti, cioè tutti quei soggetti che hanno, forse potrebbero essere propositivi, però un po' genericamente, culturalmente vengono demotivati e un po' non esistono belli e propri strumenti capaci di accogliere idee che provengono da chi chiesce. Abusi di flessibilità che produce la mancanza del lavoro, quindi tutti quei stage, tirocini, contratti che sappiamo che esistono a milioni, in realtà non producono il lavoro, ma producono semplicemente uno sfruttamento. Una mancanza di corrisponenza tra domanda e offerta, qui intesa dal fatto che tanta professionalità costruita attraverso la formazione universitaria, scolastica, in realtà poi non trova un'offerta e quindi si trova appunto un lavoro dequalificato in cui dobbiamo magari spenderci contro voglia, diciamo, la mancanza di investimenti, la presenza della malavita, delocalizzazione delle imprese, mancanza di accompagnamento, inteso come capacità anche, come avevo detto prima, di valorizzare o di accompagnare una persona che ha una buona idea ma in realtà non ha gli strumenti perché realizzare quella idea è fatta diventare concrete, non ci sono strumenti intorno che un appoggio sia comunitario sia un appoggio istituzionale. Da qui poi siamo partiti a definire quali potrebbero essere le soluzioni a questi problemi diversi e quindi sono nati vari post-it che hanno coperto i problemi. Il farmer's market, la filiera breve che copre la grande distribuzione e quindi i canali di informazioni efficaci, di buone pratiche che coprono la simmetria informativa, la mancanza della conoscenza dei profitti, luoghi di cultura che, questo andava un po' in generale bene per diverse cose, tra cui anche ridurre la mancanza di fiducia. Poi naturalmente è tutto molto connesso, man mano che uscivano delle proposte si vedeva come tutto era anche relazionato. Maggiori garanzie e supporto qui legato alla mancanza di accompagnamento. Valorizzazione del lavoro di cura sulla moda nera. E qui inteso un po' tutto il lavoro volontario che svolgiamo anche tanti di noi, o in un'associazione, o in cooperative, ma anche all'interno della propria casa, quindi il lavoro di cura verso gli anziani, verso i propri figli. Tutto questo è valore, è un valore però non è un valore con quale riesce a mangiare. Però la valorizzazione del lavoro di cura attraverso delle forme di sostegno a chi fa queste attività potrebbe essere una delle strade da percuro. Sostegno che può essere in servizi, ma può essere un sostegno economico diversamente. Semplificazione ed eliminazione di vincoli normativi. Questo è inteso un po' legando anche alle esperienze delle campagne del genuino clandestino in tutta Italia, che ricorda che le piccole realtà piccolo contadino, piccolo artigiano, deve rispondere a richieste normative che sono pensate per le grandi realtà, grandi istituzioni. Quindi un'economia che prima esisteva, adesso non è legale, però potrebbe esserci utile per vivere o non sopravvivere. Così come un esempio è stato portato quello del Maine, dove è stato deciso che tutta l'economia che viene prodotta e venduta localmente va in deroga alle leggi nazionali. Hanno fatto un esperimento che potrebbe essere un'idea da sviluppare. Creazione di luoghi, di incontri, questo in generale, tutto quello che va sulla ricostruzione delle relazioni, microcredito sulla mancanza di investimenti, garanzia di un minimo reddito o di ammortizzatori e di ammortizzatori sui abusi di flessibilità, perché magari ci rendono tutti meno ricattabili. Però questo poi è stato collegato anche a qualcosa che ancora non è stato inserito, che è la meritocrazia partecipata. Cioè le baronie, gli oligopoli professionali, potrebbero essere risolti da un vero sistema di meritocrazia che però non sia decisato dall'altro, ma partecipato. Cioè definita attraverso tutti noi, cioè tutta la comunità. E anche questo, diciamo, della garanzia del minimo reddito è stato importante definire anche di legarlo a una diversa misurazione del valore, che va a coprire la ricerca eccessiva del profitto. Cioè trovare nuovi indicatori che in pratica, questo diciamo è stato uno dei punti calcoli insieme poi all'idea di sviluppare delle pratiche di aiuto e di sostegno al lavoro, che in pratica è collegato a tutti gli altri, perché se noi individuiamo una diversa misurazione del valore, la utilizziamo anche per definire il merito in modo partecipato. La diversa misurazione del valore lo definiamo anche per stabilire in qualche modo le varie forme di assistenza o sussistenza o di... per esempio il caso della garanzia del minimo reddito e così via. Quindi trovare delle formule, si è per esempio citata l'esempio di borse che funzionano in Brasile, non conosco bene io l'esempio, però in Brasile funzionano borse non su progetti sociali. Quindi si investe e si può guadagnare se il progetto sociale ha raggiunto degli obiettivi, no? Se il progetto sociale ha accumulato denaro e è cresciuto in economia. Quindi cercare di andare in una direzione simile. Senso civico del territorio, costruire senso civico del territorio, presidio di cittadinanza attiva o piazze di presidio di cittadinanza attiva per la costruzione di quel tessuto sociale che vediamo che ritorna per... è importante anche per il lavoro. L'utilizzo delle aree industrializzate affidate a cooperative dei giovani, nel senso l'industria sono state dismesse, riappropriate, costruiamo un altro diviso in modo collettivo. Quindi servizi di accompagnamento legato ai risultati, questo è il discorso che facciamo lì, l'università collegata al mondo del lavoro. Alla fine del discorso, per scegliere un intervento pratico, si sono individuati due elementi essenziali. Uno è questo di una costruzione, di una misurazione del valore differente e l'altro è quello che pensare tutto un insieme di pratiche che potessero essere utili proprio a valorizzare le idee del territorio, a creare questo canale di informazione efficace in modo che chi cerca lavoro o chi è propositivo riesce più facilmente ad accedere alle informazioni, più facilmente ad accedere a servizi di accompagnamento e quindi pensare a strutturare una proposta del genere, al termine di tra le due se preferito concentrarsi di più su questa seconda ipotesi e quindi pensare a un insieme di proposte da sviluppare in futuro, nei prossimi incontri che riescono a dare gamba, energia e forza alla costruzione del lavoro sul proprio territorio, anche tutto quello che è il sostegno necessario intorno ma perché finché questo diventa realtà, diventi realtà.